In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Mi permetto oggi una licenza canonica, nel senso che non commenterò il Vangelo, ma vi parlerò del perdono di Assisi. Forse non tutti sanno che oggi, 2 agosto, riceviamo un dono. Forse ancor meno conoscono bene questo dono, e purtroppo pochissimi sono quelli che oggi apriranno mani e cuore per riceverlo. Provo allora in breve a spiegare cosa succede ogni 2 agosto, anzi, cosa potrebbe succedere. In una notte di luglio del 1216, San Francesco, in preghiera nella chiesa oggi chiamata della porziuncola sotto Assisi, chiese a Gesù di allentare il peso dei peccati che affliggono gli uomini, anzi andò oltre. Chiese un condono di ogni colpa e di ogni pena, un vero atto giubilare. Gesù glielo concesse e Papa Onorio III lo sigillò per il giorno 2 agosto. Sappiamo che ad ogni colpa corrisponde una pena, nel senso che naturalmente, conseguenzialmente, la pena segue ogni colpa. E sappiamo che nel sacramento della confessione il sacerdote, in persona a Cristi, assolve il peccato, ma non la pena. La pena, la conseguenza di quel peccato, continua ad agire purtroppo nel cuore di chi ha peccato e in chi ha subito il peccato. Tant'è che qualcuno ogni tanto mi dice, cosa mi confessa fare che non riesco a superare i miei peccati? In realtà non sono i peccati che non sono stati vinti, ma i sensi di colpa relativi a quei peccati. È una questione più psicologica che spirituale. Ecco, i sensi di colpa, il malessere esistenziale, conseguenza del peccato inferto o subito, creano uno stato di depressione che inevitabilmente ferisce la nostra anima. Come uscire fuori da questo blackout? Il sacerdote, nella confessione dopo l'assoluzione, ordina una qualche penitenza. Si tratta molte volte di una preghiera da recitare, ma in verità la vera penitenza dovrebbe essere una risposta di conversione rispetto al peccato commesso. Ho tradito la fiducia di qualcuno? Devo dare risposte concrete per rimeritarmi la sua fiducia? Ho colpito il fratello con parole o gesti violenti? Devo recuperare con la tenerezza. Una vera penitenza ci libera dalla pena del peccato. Purtroppo però la questione della penitenza non è mai stata vissuta con equilibrio e in maniera salubre nella Chiesa. Pensate che nel Medioevo i confessori avevano i cosiddetti libri penitenziali, dove ad ogni peccato corrispondeva una pena. Per i penitenti era una specie di prigione spirituale da scontare. Tutto questo alimentava ulteriore angoscia. San Francesco vive qui tempi e si accorge che, senza l'aiuto dall'alto, gli uomini non riescono a fare penitenza. Così chiede il dono della famosa indulgenza, cioè la grazia per vivere la penitenza. Ecco, oggi 2 agosto tutti noi abbiamo questa opportunità. Le condizioni, diciamo con un brutto termine, burocratiche, sono quelle di fermarsi in Chiesa, recitare il credo e una preghiera tradizionale per i tanti bisogni che il Papa, come portavoce degli uomini presso Dio ha. Poi, importantissimo, la confessione e la Santa Messa entro i 15 giorni prima o dopo il 2 agosto. Ma la condizione spirituale, oltre quella burocratica, è che prendiamo consapevolezza della pena che il nostro peccato ha provocato. Senza questa fine coscienza salta tutto il resto. Per questo avevo anticipato che forse pochi, pochissimi, riceveranno davvero l'indulgenza oggi. Ma non per questo non ci dobbiamo provare. Le vie e le risposte del Signore sono imperscrutabili. Accogliamo quindi il dono che ci viene dato. Rimanendo in ambito francescano, oggi cominciamo anche la novena a Santa Chiara d'Assisi su prega audio. Ecco, mi raccomando, non mancate di ascoltarla e di essere fedeli in questi giorni di attesa per la festa dell'11 di agosto. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.